Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti con questo nuovo video di Kevin Uzumaki 50 E oggi andiamo a fare altre estrazioni in Capitan Tsubasa Dream Team Prima di cominciare voglio salutare Dede, Grazia Chan, Brainiar e The Endless Station che vogliono essere salutati E adesso cominciamo Oggi faremo le estrazioni sulla Dream Collection Che sono giocatori per nulla male Infatti sono anche molto forti Prima vi faccio vedere la mia squadra ovviamente però Vi faccio vedere in ogni video Allora la mia squadra è composta Il portiero ovviamente Salinas Quello che sta in panchina Però poi abbiamo Zito Poi abbiamo Akai, Tommy e Napoleon Poi abbiamo ovviamente Benji nella nostra porta Poi abbiamo i difensori Comunque il modulo è sempre quello più o meno L'unico che è cambiato è che ho messo comunque Alberto Che poi c'ha una passiva per la squadra fortissima Cioè ovviamente i giocatori brasiliani più o meno Cioè parametri più 15% però tecnici E poi tutti gli altri tecnici 10% invece Comunque ecco qui andiamo a fare ovviamente le estrazioni sui fuoriclasse Dream Collection Che ovviamente contengono questo Zito Che ha 19.600 di difesa E tantissimo Akai con 20.000 quindi molto meglio rispetto a quello che ho io E poi hanno anche Soda Che non sono per niente male Sono tutti molto forti Quindi dai su Speriamo che ci riesca qualcosa di buono In questa estrazione da 10 Che posso farne solo una Comunque dai Forza Allora uscire un bel SSR bello forte E' quello che spero Ok il tiro è dorato Esce qualcosa Ci sono i tuoni ai fianchi Sì mi sa che esce qualcosa Vediamo Sì sì c'è qualcosa C'è qualcosa Uno ce n'è Ok Vediamo subito cos'è E' il primo Ah no Vediamo cos'è Ok Malco Wairan E Zito Quello del banner nuovo Grandissimo L'abbiamo trovato Zito Quello del banner nuovo Grandissimo L'abbiamo trovato Allora vediamo Blocca in scivolata Intercettazione forzata Contrasta ad alta potenza Questo Zito è molto più forte Perché praticamente raggiunge 19.600 di difesa circa Quindi non è per niente male Fortissimo Abbiamo un vittorino Perfetto Sono contento di come è andata Ragazzi che è Era il giocatore nuovo L'abbiamo trovato al primo colpo Sarebbe stato ancora più contento Se fossero stati due SSR E avremmo trovato pure Akai Sarebbe stata proprio la perfezione Che quei 20.000 di difesa Non si buttano Comunque anche 19.600 è tantissimo Quasi quanto il Dream Festival Praticamente Quindi non si scherza Per niente proprio Lo porterò a ultra raro Se ci riesco E che comunque Non so se ho i materiali per farlo E comunque Rosso Sì infatti Difensore Non so se c'ho abbastanza cose rosse Per farlo Io spero di sì Gli esercizi leggendari Ce li ho Però non so se ho Gli esercizi rossi Comunque dai ragazzi Io si conclude qui Sono stato fortunato Che ho trovato il nuovo Zito Quello lì Del banner Permanente al primo colpo In una multi così a caso Se vuole scritto da sopra Con la sua potentissima Tecnica speciale Che in effetti È fortissima Quindi sono davvero contento Di averlo trovato Quindi ragazzi Mi raccomando E mettetevi il pollice in su Se vi è piaciuto E iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Attivate la campagna Delle notifiche Così vi arrivo Delle notifiche Di ogni volta Che faccio un nuovo video Se avete fatto queste stazioni Ditemi cosa vi avete trovato Spero che anche a voi sia andata bene E ci vediamo alla prossima Ciao